Dunque, i lavori riprendono con la relazione del dottore Enrico Astuni, giudice nel Tribunale di Torino, attualmente giudice delegato, ma per dieci anni giudice delle esecuzioni nello stesso Tribunale. Il dottore Astuni in particolare ci parlerà dei vizi della vendita, dell'agliud proaglio, dell'opponibilità dei vincoli edificatori e pertinenziali, oppure vincoli di altra natura, derivanti da convenzioni urbanistiche e questo sia nell'esecuzione che nel fallimento. Quindi la parola al dottore Astuni, cerchiamo di contenere i tempi anche per gli ultimi due relatori in modo tale da finire puntuale e lasciare un minimo di spazio al dibattito finale. Grazie. Grazie, sono molto contento di essere qui in questo bellissimo contesto, in questo convegno interessantissimo e per fortuna qualche cosa sul mio tema è già stato anticipato, specialmente dalla relazione introduttiva del consigliere Maccagno, che giustamente ha ricordato che l'aggiudicatario non ha tutela nella vendita forzata per quanto concerne la garanzia per vizi, perché l'articolo 2922 esclude che possa far valere tale garanzia. Si è detto, una delle spiegazioni più convincenti della esclusione della garanzia per vizi nella vendita forzata riposa nel fatto che la vendita forzata come tale ha una esigenza intrinseca di stabilità, stabilità dei risultati della vendita forzata, che vuol dire non soltanto del trasferimento ma anche dell'acquisizione del prezzo in sede di distribuzione da parte dei creditori. Questa esigenza di stabilità fa sì che sia legislativamente valutato come inopportuna la persistenza di uno strascico di obbligazioni a seguito dell'avvenuto trasferimento del bene. Non ci può essere strascico di obbligazioni dall'atto dell'aggiudicatario perché sappiamo che nella vendita mobiliare il prezzo si paga per contanti contestualmente, nella vendita immobiliare il decreto di trasferimento è emesso dopo che il prezzo è stato versato. Egualmente nelle procedure competitive deformalizzate del 107 legge fallimentare, il giudice purga, emette il decreto di purgazione dei vincoli solo dopo l'avvenuto versamento del prezzo, come ricordava prima il notaio Calderone. Se c'è questa esclusione di persistenza di obbligazioni dal lato dell'aggiudicatario, ugualmente dal lato dei creditori non ci può essere una persistenza di obbligazioni, tanto meno di garanzia. Questa spiegazione che ha una sua plausibilità trova però un limite logico nello stesso codice civile perché il 2921, mentre nega la norma che segue la tutela per vizi, riconosce però all'aggiudicatario un'azione per il caso di evizione, azione di ripetizione dell'indebito. Come si fa valere? Si fa valere anzitutto sul prezzo se non è stato ancora distribuito, si fa un'opposizione al riparto perché quella somma verificata se l'evizione non spetta ai creditori per la distribuzione deve essere restituita. Se invece il prezzo è già stato distribuito, quando si è verificato il fatto evizionale, allora potrà agire in ripetizione individualmente nei confronti di ciascun creditore o del debitore per l'eventuale residuo. Ferma la responsabilità del procedente per danni e spese. E allora queste due norme in qualche modo si guardano ed esigono una sistemazione unitaria. Secondo me c'è un problema di contemperamento di esigenze. Sono due norme frutto dell'esigenza di questo contemperamento. Da un lato la stabilità della vendita forzata, la stabilità dei risultati, dall'altro la salvaguardia del nucleo essenziale dello scambio. Non c'è lesione del nucleo essenziale dello scambio quando la cosa è affetta da vizi, materiali, mancanza di qualità che magari risultino dagli atti della procedura. C'è un vulnus al nucleo essenziale dello scambio quando si verifica un fatto di evizione, totale oppure parziale. E allora questo spiega per quale motivo il vulnus al nucleo essenziale dello scambio legittimi la tutela della giudicataria. Se così è però, questa lettura complessiva delle due norme ci offre anche un criterio per risolvere i casi non regolati. perché il libro sesto del codice si disinteressa di tutte le tutele del compratore diverse da evizione e vizi. Si disinteressa della mancanza di qualità promesso essenziale in 1497, si disinteressa degli oneri non apparenti, non dichiarati, né altrimenti conosciuti dal compratore previsti da 1489, oneri che limitino la facoltà di disporre e di godere del bene, si disinteressa soprattutto dell'aliud pro alio, che rientra, secondo la giurisprudenza tradizionale, nell'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento. Allora, è da tempo acquisito come dato giurisprudenziale, a partire almeno da una Cassazione dell'81 alla 1698, che l'aggiudicatario è tutelato per il caso di alio pro alio, perché la norma 2922, si dice, deve essere intesa restrittivamente. Si può applicare alla mancanza di qualità, ai vizi materiali, a ciò che rientra nella garanzia per vizi, non si può applicare a fattispecie più gravi. E io sono d'accordo con questa giurisprudenza che ormai è stabile, perché nell'aliud pro alio abbiamo una radicale vanificazione dello scambio nei termini in cui è stato divisato nel bando di gara. Cioè il bene può essere materialmente identico, ma è un bene giuridicamente irriducibilmente diverso rispetto a quello che è stato descritto. Bene reale non coincide con il bene descritto. È allora chiaro per quale motivo, fatta questa premessa, il terreno di elezione, il diritto urbanistico, il diritto amministrativo, sia un terreno di elezione privilegiato per l'emersione di fattispecie di aliud pro alio. Perché? In definitiva perché la pianificazione del territorio, con valore conformativo della proprietà, determina facilmente delle diverse qualificazioni degli immobili, sia sul piano delle facoltà dominicali, sia sul piano delle facoltà di disporre, sia sul piano delle facoltà di godimento, di destinazione a determinati usi o non destinazione a certi usi del bene. E nella misura in cui potere di disporre e facoltà di libero godimento si riconoscano come comune sentire attributi qualificanti della proprietà, ricordiamo la definizione del Code Napoleon dell'articolo 832, codice civile, queste limitazioni, vincoli amministrativi urbanistici, si traducono in una possibile emersione di aliud pro alio, non abbiamo una proprietà di diritto comune, abbiamo una proprietà diversa, o in oneri non apparenti, non dichiarati. Ora qui fare una rassegna di ipotesi sarebbe veramente esorbitante, una rassegna analitica di ipotesi sarebbe veramente esorbitante, però io ne lancio alcuni esempi perché a mio modo di vedere sono quelli che più ricorrono nella pratica e possono fornire una cornice in cui inserire i casi singoli. Anzitutto possiamo avere vincoli e limitazioni che si impongono alla proprietà in termini reali senza onere di convenzione urbanistica. Pensiamo anzitutto al vincolo idrogeologico, eppure il vincolo idrogeologico è certamente un vincolo tale da snaturare la possibile destinazione edificatoria dell'area. C'è anche qualche precedente di Cassazione, mi pare una Cassazione 2005-8.045, Cassazione del 1994-11.018, che discutono di questo punto. L'area viene promessa, viene descritta dalla perizia, viene descritta dal bando di gara come area edificabile con un certo indice di fabbricabilità, una certa cobertura, sta il fatto che c'è un vincolo non rilevato che svuota di contenuto quell'edificabilità. È un fondo che resta teoricamente edificabile, ma non può essere destinato a quei fini. È evidente l'emersione dell'aliud pro-aliud. Ma pensiamo ancora alla bonifica dei siti inquinati, dove la legge 152 del 2006 prevede, agli articoli 250 e 253, che nel caso in cui non possa rispondere colui che ha inquinato, risponda il proprietario. E il proprietario ha un onere reale di bonifica o di subire l'esecuzione in danno da parte dell'amministrazione. A questo segue l'iscrizione di un onere reale nello stesso certificato di destinazione urbanistica con privilegio speciale immobiliare. Eppure il caso dei siti inquinati è molto ricorrente, insomma, se non altro nei fallimenti. Idem se ragioniamo dell'abusivismo edilizio. Noi tutti sappiamo che la legge sul condono, un articolo 1740 è esonerato gli immobili abusivi dalla necessaria esistenza del titolo a costruire. Anche un immobile totalmente abusivo può essere venduto giudizialmente in esecuzione individuale oppure concorsuale. Prima ancora può essere ipotecato, perché l'abuso del debitore non può andare, non può ripercuotersi pregiudizialmente sulla sfera giuridica dei creditori. I creditori hanno diritto ad eseguire. Ma, attenzione, perché la vendita forzata non è lì dell'abuso, non porta sanatoria dell'abuso. A regime l'aggiudicatario ha un termine di grazia di 120 giorni per chiedere a sua volta la sanatoria. Ma questa sanatoria potrebbe non essere richiesta o non essere concessa, concedibile, perché c'è una difformità tra il fabbricato così com'è e gli strumenti urbanistici vigenti o al tempo dell'abuso o al tempo dell'esecuzione. E quindi, di nuovo, abbiamo una situazione in cui il bene comprato per vendita forzata è in qualche modo dimediato nelle sue facoltà perché non si accompagna a ciò il potere di nuovamente disporne e alienare per atto intervivos, visto che alla giudicataria tornerebbe ad applicarsi il limite. Ma ci sono poi vincoli urbanistici che si applicano per convenzione o convenzione trascritta. E anche qui riscontriamo possibili contiguità con i fenomeni di cui ci occupiamo, Agliud pro Aglio 1489. Divieti di alienazione. Noi possiamo pensare, ad esempio, alle case ex gescal. E, come è noto, l'articolo 28 della legge 513 del 77 prevede che per dieci anni dall'assegnazione in proprietà e comunque fino all'integrale pagamento del prezzo, quell'immobile sia inalienabile. Analogo divieto di alienazione si riscontra frequentemente nelle aree soggette a piano di insediamento produttivo. Ora, si applicano questi divieti di alienazione nella vendita forzata individuale, concorsuale. La Cassazione, nell'87, risponde di no, ragionando di un alloggio ex gescal. E direi che risponde a ragione per due motivi. Primo, perché non c'è nella vendita forzata quella razio del divieto di alienazione che è di evitare la speculazione propria del debitore che acquista e rivende subito dopo a prezzo più alto. Secondo, perché è norma generale della vendita forzata che chiunque salve il debitore può offrire. Egualmente per le stesse ragioni per incompatibilità con i meccanismi della vendita forzata non si può applicare neppure la prelazione che eventualmente sia prevista dalla Convenzione di Dizzi. Prelazione a favore di ATC del Comune. Però questi stessi divieti di alienare tornano applicabili quando si discuta invece della posizione dell'aggiudicatario. Così come lo stesso aggiudicatario dovrebbe fare carico quella convenzione che limiti in via imperativa con una politica di prezzi imposti tipica della politica per la casa degli anni 70 il prezzo di rivendita, cessione e locazione. Mi riferisco in particolare come è noto sia gli alloggi in diritto in proprietà superficiaria di cui alla legge 865 del 71 quelli superficie per 99 anni rinnovabile sia gli alloggi costruiti in forza di una Convenzione Buccalossi della legge 1077. N'entrambi questi casi c'è un prezzo imposto che è marcatamente inferiore rispetto al prezzo di mercato. Qui il problema della vendita forzata è anzitutto un problema di perizia del giudice cioè come dovrà essere periziato a prezzo di mercato a prezzo di convenzione la questione è quel vincolo si applica oppure no alla giudicataria a mio modo di vedere continua ad applicarsi perché quella proprietà resta nel regime della superficie 99ennale quella proprietà resta soggetta alla Convenzione Buccalossi trascritta. E quindi credo che sia necessario guardare al prezzo di convenzione come parametro per fissare la base d'asta. Fermo restando che poi non ci sarà certo un problema di superamento di quel limite perché quella norma di prezzo imposto non si può applicare all'asta non si può applicare la vendita giudiziale. Ultimo caso di cui posso accennare prima di passare all'esame della tutela processuale dell'Aliud Proaglio parcheggi della legge Ponte noi abbiamo legge Ponte famosa legge 765 del 67 abrogata nel 2005 ma l'abrogazione non ha valore retroattivo per giurisprudenza pacifica quei parcheggi previsti nel progetto assentito con concessione edilizia dal comune sono per la quota obbligatoria riservati all'uso dei condomini dell'edificio possono essere di proprietà di un terzo e quindi possono essere espropriati ma il terzo che non sia al contempo titolare dell'unità immobiliare nell'edificio non può avere il godimento se ha questo godimento è precario perché rischia di subire l'azione da parte dei condomini per il riconoscimento del diritto reale d'uso e questa azione viene ammessa dalla giurisprudenza anche nei confronti della vente causa dal proprietario costruttore che magari si sia riservati parcheggi quindi abbiamo un possibile pignoramento un godimento che precario un rischio giuridico di evizione parziale significativa perché il diritto reale d'uso del condomino svuota il significato di quella proprietà separata dall'uso proprietà dello spazio a parcheggio e questo può avere una ripercussione evidente nella vendita forzata fatto questo passaggio vediamo qual è il mezzo processuale per far valere l'aglio pro aglio nella vendita forzata individuale e fallimentare stato sostenuto in dottrina ma solo in dottrina da buonsignori che si potrebbe rinvenire la norma di tutela nel 2921 cioè l'azione di ripetizione del prezzo data per il caso di evizione io su questo non sono d'accordo perché l'azione di ripetizione del prezzo non è un'impugnativa del titolo nell'evizione non c'è una questione di impugnazione del titolo perché la vendita è inefficace il bene non è di proprietà del debitore ergo non può essere acquisito dalla giudicata nella vendita forzata connotata da aglio e pro aglio invece questo problema di impugnazione del titolo si propone cioè l'attribuzione patrimoniale è radicalmente inesatta però è efficace ed è solo l'invalidazione del titolo che può aprire la strada alla ripetizione del prezzo inoltre e questo segna marca la distanza tra vendita tra evizione e aglio pro aglio nell'evizione non c'è un problema di restituzioni reciproche il bene è evitto dal terzo la giudicataria ha diritto alla ripetizione del prezzo nell'aglio pro aglio invece il problema delle reciproche restituzioni c'è ed è molto forte perché la giudicataria può aver diritto alla restituzione ma al contempo deve restituire il bene e il problema si pone in termini molto eclatanti non è mai stato affrontato credo in ex professo quando il processo esecutivo pure fallimentare si è ormai chiuso come si fa a restituire facciamo il caso di esecuzione individuale un bene alla procedura esecutiva perché la procedura rinnovi gli atti a partire dall'atto viziato quando il pignoramento è stato cancellato quando i gravami le ipoteche che sono iscritte sull'immobile sono state cancellate questo è un punto delicato di cui ci si deve fare carico fallimento magari avendo una liquidazione generale del patrimonio può avere tempi diversi però il problema mia teorica si pone anche lì opinione che era corrente nella giurisprudenza era dunque che l'aglio di proaglio si facesse valere con un'impugnativa negoziale questa impugnativa negoziale era modellata sulla falsariga delle impugnazioni contrattuali la giurisprudenza non avendo un indice normativo a cui attaccarsi fatto riferimento ora a un'azione di nullità sostanziale ora un'azione di risoluzione per inadempimento quindi chiarissimo il retaggio della disciplina di diritto comune ora infine ad un annullamento dell'offerta per vizio del consenso tramite un'azione contrattuale quella del 1427-28 codice civile però anche qui emergono delle criticità il primo punto è che l'errore è rilevante se è riconoscibile dalla controparte ma chi è la controparte dell'offerente che potrebbe dovrebbe riconoscere la falsa rappresentazione dell'aggiudicatario se pensiamo ad una procedura esecutiva individuale dove non c'è quella trattativa preliminare quella selezione preliminare dell'interessata all'acquisto a cui accennava il dottor Maccagno prima giustamente e che invece è caratteristica dei fallimenti perché non si può pensare di vendere un'azienda pubblicando l'annuncio sulla stampa di Torino e pensando magari qualcuno verrà bisogna fare una ricerca preliminare bisogna fare una due diligence bisogna esaminare e dopodiché una volta che c'è un interessamento effettivo si può pensare di uscire con una procedura competitiva però nell'esecuzione individuale questo non c'è e allora come si fa ripeto a pensare in una procedura competitiva aperta che abbiano rilevanza le aspettative soggettive del singolo partecipante è chiaro che qualunque aspettativa dell'offerente non può che fondarsi sull'avviso di vendita e sulla perizia ogni altra aspettativa di possibile uso destinazione del bene che non si traduca in una concreta previsione della perizia che non si traduca in un affidamento legittimamente fondatamente riposto sulla perizia non può essere rilevante nel processo esecutivo e allora si arriva al punto secondo me che in qualche modo invalida come non fondata la conclusione della possibilità di impugnare l'offerta per vizio del consenso ed è il fatto che il vizio dell'offerta l'offerta del interessato all'acquisto è viziata perché a sua volta è l'avviso di vendita il bando di gara la perizia ad essere viziata per travisamento della situazione di fatto e di diritto dell'immobile e questo vizio della perizia non enuncia non espone il vincolo idrogeologico non fa le visure ipotecarie non rileva l'esistenza di una vecchia convenzione edilizia trascritta oltre il ventennio e via dicendo questo vizio che non viene tempestivamente rilevato dall'ufficio anzi in qualche modo l'ufficio pubblicando la perizia crea un affidamento legittimo si propaga e contamina l'offerta a seguire e tutti gli atti successivi conseguenziali e allora si arriva alla conclusione a cui secondo me è difficile sfuggire a cui arriva anche la Cassazione ultima 7708 del 2014 con estensore dottor Franco De Stefano già prima però c'era una vecchia Cassazione la 102 del 65 che decidendo un regolamento di competenza d'ufficio attribuiva la competenza a decidere dell'impugnativa dell'offerta per errori in sostanze e in quel caso si trattava di una vendita di quadri di Raffaello che risultavano essere copie la giudicatario impugna per errore e la Cassazione dice giustamente la competenza del giudice dell'esecuzione perché quella impugnativa dell'offerta per errore in realtà è un 617 quindi competenza funzionale del giudice dell'esecuzione e allora la conclusione è appunto che l'agliud pro aglio io credo anche in 1489 si devono far valere con l'opposizione agli atti come rimedio tendenzialmente generale di invalidazione degli atti processuali è chiarissima la ragione di politica del diritto che sta sotto questa scelta della Cassazione 7708 che in qualche modo si pone in antitesi a quelle altre Cassazioni che dall'83 fino a pochi anni prima hanno ammesso con una certa tranquillità e senza interrogarsi sul vero regime dimmi tu quando posso ok dicevo quella la ragione di politica del diritto io credo sia abbastanza chiara c'è una netta preferenza per la stabilità della vendita forzata anche a discapito della tutela dell'aggiudicatario optare per il rimedio 617 vuol dire infatti assoggettare l'aggiudicatario al termine decadenziale di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto e questo è un passaggio interessante secondo me perché negli ultimi anni ci siamo abituati a pensare alla stabilità della vendita forzata come una salvaguardia un baluardo a tutela dell'aggiudicatario pensiamo al 187 bis disposizioni d'attuazione per cui l'estinzione sopravvenuta la chiusura anticipata del processo esecutivo sopravvenuta l'aggiudicazione anche provvisoria non porta pregiudizio all'aggiudicazione quindi l'aggiudicatario ha uno uso in rem all'emissione del decreto di trasferimento subordinatamente al versamento del prezzo pensiamo ancora alla Cassazione Sezioni Unite del 2012 che traendo spunto a mio modo di vedere impropriamente dall'articolo 187 bis che riguarda altro ha però concluso giustamente che la vendita forzata resta salva anche se dopo l'aggiudicazione dopo l'emissione del decreto di trasferimento viene caducato si scopre la inesistenza del diritto di procedere esecuzione forzata del procedente ad esempio faccio valere un decreto ingiuntivo questo decreto ingiuntivo viene revocato integralmente dal giudice dell'opposizione ma l'opposizione a decreto ingiuntivo è sopravvenuta alla vendita quella vendita resta salva secondo Cassazione Sezioni Unite e io credo giustamente anche se per motivi diversi rispetto a quelli che dà la Cassazione qui invece ci troviamo nel caso dell'agliud pro aglio come interpretato dalla Cassazione 7708 2014 in un caso in cui la stabilità della vendita non è alleata ma antagonista della giudicataria che invece secondo la vecchia giurisprudenza poteva beneficiare di un ben più ampio spazio per agire in giudizio dico tre cose e chiudo in modo da stare nel primo punto quale può essere la decorrenza del termine e non può essere la conoscenza legale dell'atto mi pare chiara infatti la Cassazione non fa questo errore perché l'agliud pro aglio è un vizio extraformale dipende dalla irriducibile diversità nonostante la materiale identità del bene come è stato promesso nel bando di gara e del bene come è realmente esistente quindi la Cassazione fa decorrere il termine dalla scoperta o dalla possibilità di scoprire con ordinaria diligenza l'agliud pro aglio operando una sorta di generalizzata remissione in termini qui si può discutere del criterio dell'ordinaria diligenza che in realtà è un unicum nella materia dell'opposizione agli atti esecutivi io credo che ragionando in termini di non imputabilità del ritardo nella proposizione dell'impugnazione si potrebbe tranquillamente fare riferimento non alla conoscibilità con ordinaria diligenza ma alla conoscenza salva poi la possibilità dei creditori di dimostrare una conoscenza anteriore o di far valere la tardività dell'opposizione perché quel vizio era così facilmente riconoscibile che non può non essere stato riconosciuto ma questa è una presunzione semplice non è un criterio legale la norma secondo me dovrebbe continuare a fare riferimento alla conoscenza e non alla mera conoscibilità parlare di conoscibilità però introduce ci riporta ai vincoli derivanti da convenzioni perché dicevamo che convenzioni edilizie urbanistiche sono anche trascritte e allora possiamo dire che l'aggiudicatario ha l'onere di scoprirsi da sé perché questo rientrerebbe nell'ordinaria diligenza quello che il perito non ha rilevato cioè per esempio che la convenzione di lottizzazione una convenzione bucalossi o un pip erano trascritti nei registri immobiliari e continuavano a conformare lo statuto della proprietà io credo di no credo che si debba tutelare si debba privilegiare l'affidamento fatto sull'atto della procedura cioè sulla perizia infine è possibile un'impugnativa per aglio pro aglio a processo esecutivo ormai chiuso questo è un punto interrogativo che io rilancio come dubbio perché non ho una risposta chiara e non ce l'ha neanche la Cassazione 7708 che infatti lo lascia lì lo fa trasparire ma non non prende posizione non avrebbe l'onere di prendere posizione perché decide sulla tardività della opposizione proposta dopo nove mesi dalla conoscenza a processo esecutivo ancora in corso il punto è questo che l'opposizione agli atti come tutte le opposizioni esecutive è necessariamente incidentale però necessariamente incidentale vuol dire che quando il processo si chiude perché è divenuta definitiva la distribuzione del ricavato quell'opposizione non è più proponibile la Cassazione però dice e c'è anche ottima dottrina che lo ammette ad esempio Oriani nella monografia sull'opposizione agli atti esecutivi che se il vizio fosse scoperto dopo la chiusura del processo esecutivo se il processo esecutivo più non pende queste sole parole della Cassazione spetterà alla giudicataria un'azione autonoma già però il punto è che azione autonoma spetta l'aggiudicatario è un'azione di annullamento è un'azione risarcitoria nei confronti di chi ha provocato quell'affidamento dell'uso dei fatti oppure è come io credo che sia più corretto anche se la dimostrazione potrebbe essere lunga e la lascio all'eventuale dibattito un'azione di arricchimento senza causa non c'è restituzione del bene non ci può non ci può essere restituzione del bene una volta che il processo è chiuso ma la differenza dovrebbe essere ripetibile dai creditori e io con questo sperando di essere rimasto nei termini chiudo grazie